Ma non è caso, non è caso, non è caso, non è una provocazione, è la dimostrazione che si può fare quello che si può eseguire. È piacere di sentirte lo dico, perché si capisce il messaggio per chi ha visitato, ma chi ancora la si vede. Chi ha le visitate e deve venire a vederla, perché è una bellissima mostra, ed è una mostra che significa la mostra in sé, ma significa anche che c'è una possibilità di un messaggio aiutati dalla Francia, la Francia che diceva che ancora non si mangia, c'è una possibilità di riscatto e c'è, e questa è la dimostrazione. Avremo un collegamento con la Regia, con un passaggio, faremo vite? Guardi, questo io non te lo posso più dire, perché io adesso non sono più qui a Napoli, perché adesso sono direttore del Polo Municipale della Puglia, ma io credo che sicuramente il segretario regionale della Campania, il direttore del Polo Municipale, lanciamo questo messaggio, ma certo, certo, ormai questa bomba crescerà, sicuramente questa bomba accadrà, ci deve accadere, bisogna che lo si voglia davvero. I nostri auguri, ci vediamo in testa. Grazie.